I am crazy Salute ragazzi e benvenuti su un nuovo video di SolaNari E oggi siamo qui su Homs2 Siamo con questo spell sitter della SAD 400 Numero 4 744 Ecco Ora ci siamo sotto la linea Ecco, un po' fuori città E direi che possiamo iniziare, già E' un po' strettino qui, eh E' un po' strettino qui, eh E' già un po' che il fungo sale Su Salute Come ho notato io ho il volante finalmente Mi posso guidare col volante ora Oh, io direi che possiamo cedere anche il riscaldamento Così intanto la gente non muore di caldo Borsi questo lasciamo così E partiamo Ah, scusatemi ragazzi, ti ho indicato una cosa Vabbè Che dobbiamo andare avanti in tempo oggi Scusatemi, devi andare avanti in tempo E' qua Fatto Così la gente c'è, ecco Devo girare a sinistra Come dice qua La freccia E' perfettissimo Passati perfetti Un po' strettina questa strada Però Non ce la possiamo fare Penso in calma Pillare a sinistra Tornare a sinistra Ascriviti Tornare a sinistra Solo Allora... Vogliamo girare a destra? Oh, ma stessi... Eh, tutti che si lamentano L'autobus sa che... Tipo, se accelero fa di scatto e se non accelero va niente troppo, eh? Perfetto Perfetto Aspettiamo al verde Dice collega Il nostro collega, sembra sulla linea 41 come noi È il collega Ciao collega Allora Rolentiamo qua che sono sempre tre curve un po' strette Sennò poi si lamentano le persone Buongiorno Ciao 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 Sì perfetto 41 va a sinistra e a destra la nostra linea mamma mia un po' strettino sempre sta linea qua mamma mia su su che verde bella c'è ok possiamo andare perché è verde per andare solo a destra non bisogna andare a destra quindi perfetto oh la la salita ok 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 Ok, non dobbiamo andare più dritti il resto perché dopo dobbiamo andare a destra però Torniamo dritti, facciamo una fermata qui dentro e poi torniamo indietro Intanto nell'autobus di riscaldamento sta facendo effetto, sono 16 gradi, sta aumentando Vedete? Andiamo a girare a sinistra E il resto a destra Io vorrei passare a tirare veloci perché c'è tutto dritto E ora giriamo a destra Quello lì non voglio farlo salire e non andiamo avanti Pari curva, ci sono? Grazie a tutti Grazie a tutti No Perfetto, sono passati senza incontrare nessuno Oh, un collega Qua sull'autobus Della linea 41 sempre c'è un collega Devo girare a sinistra Vai, perfetto, questo qui se ne va via E dai, vai via Che palle Che palle Tutti bloccati Pure quello di là Eh, va qua, va a far marci qui noi Arrivano altri E poi possiamo andare Che c'è anche il verde Wow Ovviamente andiamo dritti perché se non ci sono indicazioni Io di che bisogna andare dritti Ops, da c'è anche la topa Che c'è anche la topa Allora dobbiamo girarla qui dentro perchè gli autobus sanno andare qua Opla il palo Perfetto Ok perfetto Eh mamma mia C'è lamentarsi solo Prossima YouTube armata Sisselforged Bahnhof E adesso un po' di auto super strada Con un po' di tangenziale per arrivare Per far andare più veloci Noi andiamo a continuare a stare dentro Quindi andiamo in alta corsia Mettiamo la freccia Di là va la 27 Quindi noi andiamo a 41 Quindi andiamo di qua Allora dobbiamo Allora dobbiamo Ecco qua Siamo già arrivati Wow M'ho fatto molto veloce Subito già abbiamo Più verde Opla Eccoci qua E quindi ragazzi Vi ricordo C'era un bel like Iscrivetevi al canale Condividete questo video Più che potete Io Vi ringrazio Per aver partecipato a questo video Oggi Ho concludo già Un altro viaggio Con questo bel setra E Io vi saluto Mi raccomando Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Come dite questo video E Dico Boh Chiamo la porta davanti Quindi dietro scenderanno Prima o poi Boh Vabbè Lasciate un like Iscrivetevi al canale Commentate Iscrivetevi al canale E Ci vediamo alla prossima Ciao gente Ciao a tutti Ciao a tutti